In questo video presentiamo l'X-Glitcher 360 di ConsoleLab, un chip per Reset Glitchhack studiato e realizzato da ConsoleLab. Questo chip si differenzia dai chip commerciali poiché viene personalizzato sulla console dove viene installato, riducendo ovviamente i tempi di avvio dell'Hack. Si può notare che il chip presenta delle stripboard dove andranno collegati i cavi e facilitando così la stessa installazione anche per chi non ha dimestichezza con la saldatura. In questa parte, nella sinistra, ci sono i punti, la strip line o i punti da saldare sulla mainboard dell'X360 sia per Slim che per Fat. Ovviamente gli schemi di montaggio sono disponibili sul sito www.consolelab.dk. Nella parte sovrastante invece vi sono i pin di programmazione del chip. Questo chip può essere programmato da porta parallela o da USB. I pin di programmazione sono collegabili senza alcuna necessità di saldarli sul programmatore abbinato al chip che presenteremo nel prossimo video. In basso troviamo ancora un'altra caratteristica importante, la possibilità di collegare a questi due pin un LED da collegare sulla console che permetterà di tenere sotto controllo i tentativi di glitch della console. Nella parte bassa a destra invece troviamo il jumper di selezione, il jumper di selezione che viene spostato a seconda della vostra console se è una Fat o una Slim. In questo caso è selezionata una console Fat. Basterà ponticellare con lo stesso jumper i pin descritti negli schemi di montaggio per passare da montaggio su Fat a montaggio su Dream. Nella parte centrale troviamo il chip vero e proprio, il chip che è uno Xilinx classico utilizzato tra gli altri sui vari chip commerciali che bene si sposa con il Reset Glitchiak. In alto a sinistra troviamo la pedinatura dei pin da collegare, pin di selezione Fat o Slim e Glitchiak. Il chip come vedete è realizzato su basetta millefori. Questa basetta viene consegnata già con nastro adesivo che ne permette l'isolamento e la perfetta installazione sulla console. Infatti nel momento in cui verrà installato sulla console verranno semplicemente tolte le protezioni dalla parte adesiva e il chip verrà letteralmente appiccicato su qualsiasi parte in cui l'utente desidera installare il chip. Nel prossimo video vedremo all'opera il chip su una console e il suo comportamento. dell' Nash Greco A